Siamo con la dirigente Giacomina Capuano dell'Istituto Comprensorio Marconi. Allora, è slittato ancora una volta l'inizio dell'anno scolastico, si arriveremo al 1 ottobre. Questa seconda emergenza organizzativa contro il Covid, come l'ha vissuto lei e la sua scuola? Allora, buongiorno. Sono contenta di partecipare, come gli altri colleghi, a tutto il nostro lavoro durante questi mesi estivi. È stato veramente un lavoro incessante, che ha visto tutte le componenti impegnate, dai docenti ai collaboratori scolastici allo staff di segreteria. Anche l'ufficio tecnico si è messo a disposizione, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, perché sebbene abbiamo dovuto rinviare nuovamente l'apertura, veramente sono stati solerti a raccogliere tutte le nostre esigenze. Ora siamo qui con quest'ulteriore differimento perché purtroppo i lavori sono quasi al termine, però non abbiamo le condizioni opportune e adatte per assicurare agli alunni un'adeguata pulizia. Quindi abbiamo bisogno di questi ulteriori giorni per riaprire nel miglior modo possibile, in sicurezza, anche in termini di igiene. Quindi, come dicevo, c'è stato un lavoro incessante, abbiamo rinunciato, molti di noi hanno rinunciato alle ferie. Molte volte abbiamo dovuto anche rivedere, rivisitare le organizzazioni già fatte, le out, ma l'organizzazione anche di tipo didattico, perché poi ci sono arrivate al contempo delle indicazioni anche diverse. Non abbiamo avuto ancora i banchi monoposto, quindi per garantire la didattica in presenza abbiamo dovuto rivedere anche la configurazione delle aule, perché per noi del primo ciclo non è prevista una didattica a distanza, se non in un'ipotesi di un nuovo lockdown o per delle situazioni particolari. Quindi questo è stato il disagio, più che altro, dover rivedere anche un lavoro fatto molto con, diciamo, accuratezza, con sistematicità. Però sembra che anche questo sia stato messo a punto, quindi per il primo ottobre penso che siamo proprio pronti per la riapertura. Mi piacerebbe sottolineare questo aspetto, chiarito anche spesso nei collegi dei docenti e nei consigli di istituto che in questo periodo si sono avvicendati in maniera frequente. Purtroppo queste indicazioni emergenziali hanno un po' penalizzato la didattica, tutte le conquiste fatte in questi anni, le classi aperte, le interclassi, le intersezioni, anche le nostre manifestazioni a più voci corali. Quindi sicuramente sarà un discorso che limiteremo a questa situazione in cui naturalmente è prioritario prevenire e limitare i contagi.